Questa domenica 11 luglio torna sul Sebino il Giro delle Creste appuntamento podistico, giunto alla sua 14esima edizione. Un pieno di scritti per la Sky Race del Monte Guglielmo, terza prova dal circuito Lombardia-Monteinran Xen Outdoor 2021, con partenza dalla frazione di Grignaghe di Pisogne, saranno 250 i concorrenti al Via. Il Giro delle Creste, 14esima edizione, diciamo che si riparte e già questa è una notizia positiva, visto quello che è successo l'anno scorso. Quello che stiamo ancora vivendo in parte, però a differenza di un anno fa sicuramente la situazione è in miglioramento, parlo della situazione sanitaria, e quindi anche la possibilità di svolgere delle gare in sicurezza ad oggi è fattibile. Abbiamo un protocollo da seguire che è stato emesso dal nostro comitato che è l'Oxen, e logicamente ci sono delle limitazioni, però gli atleti sono abbastanza abituati ormai dopo circa 4 mesi, diciamo che l'attività agonistica è ripresa, appunto ci sono queste limitazioni, però vedremo di portare a casa l'obiettivo appunto di fare questa gara. Il percorso è di circa 19 chilometri, dislivello positivo di circa 1000 metri. A livello tecnico il percorso ormai è quello solito, praticamente si parte da Grignaghe, si sale fino in passabocche, così a grandi linee, si passa sotto il Medellet, si raggiunge il roccolo della caravina e si risale per le creste. Dopodiché una volta giunti in cima alla punta caravina si raggiunge il refugio al Mici, andiamo verso il Redentore, poi ritorniamo sempre sulle creste, passando per il dosso di Pedalta con un panorama bellissimo, quindi consiglio anche a tutti i corridori, se hanno un momento di tranquillità durante la gara, di godersi anche il panorama e poi si scende Medellet, passabocche e si torna a Grignaghe dove ci sarà l'arrivo.